Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, buon lunedì 29 giugno a tutti. Il Milan ieri ha fatto una bella prestazione, una bella vittoria, 2-0 contro la Roma con i gol di Ante Rebic e col gol procurato da Teo Hernandez su rigore di Cialanoglu. Il Milan ha convinto, il Milan dopo tanti anni è riuscito a battere e convincere in un big match contro la Roma. Una Roma che è apparsa molto stanca nel secondo tempo, il Milan che grazie anche agli ingressi di Paquetale, Aoi e Salome Kers è riuscita a dare una spinta in più, a essere più pericolosa davanti e il Milan ha portato a casa una grandissima vittoria. Come vedete dal titolo oggi vogliamo parlare di una riflessione sul futuro del Milan, quindi partendo da Pioli, arrivando a Ragnic e soffermandoci sul calcio e mercato. La riflessione di Pioli è la seguente, Pioli da quando è arrivato al Milan ha migliorato sensibilmente le statistiche, arrivando ad una media di 1,9 punti a partita e con una media molto interessante, alta rispetto alle medie che abbiamo visto negli ultimi anni. Una media che se fosse partito molto probabilmente all'inizio dell'anno ci avrebbe visto con qualche punto in più e potremmo essere lì a competere per le zone alte della classifica. Quindi complice l'avvio shock di Giampaolo, il Milan ha dovuto in qualche modo ripiegare nelle proprie scelte e puntare su Pioli. Pioli che nelle ultime gare ha cambiato il modulo di gioco, ha cambiato il Milan, è partito con un 4-3-3 per poi variare con un 4-2-3-1. Un ruolo che ha permesso a tanti giocatori della Rosa di essere rivalutati e giocatori che si trovano molto bene con questo ruolo. Partendo dalla difesa dove con l'arrivo, l'importantissimo arrivo di Simon Chier, la difesa si è blindata, le ultime due giornate in Milan ha convinto molto anche in fase difensiva. Con Conti a destra, con Simon Chier in mezzo, con Romagnoli e con Teo Hernandez, un applauso va fatto a Simon Chier che ieri non era al meglio. Complice anche le troppe essenze in fase difensiva, ha stretto i denti e ha giocato una partita molto intelligente, una partita molto molto buona. Quindi complimenti a lui. Pioli è stato l'artefice anche della valorizzazione di Ben Nasser nel ruolo di mediano insieme a Chessy, si trovano molto bene. Hanno giocato molto bene nella partita ieri contro la Roma, due giocatori che hanno grande corsa, grande dinamicità. Ben Nasser ha anche un po' più di qualità rispetto a Chessy, ma Chessy è un centrompista fondamentale per il Milan, un centrompista che si fa sentire. Quindi un giocatore imponente. Poi nei tre trequartisti, grande ruolo di Cerenoglu che sta giocando molto bene dietro la punta, dove già aveva giocato all'Everkusen. Molto bene anche Castieco, ieri un pochino meno, ma da quando è arrivato Pioli Castieco sta giocando con grande intensità, con grande voglia di sacrificio. Ricordiamoci che Lecce è stato uno dei migliori, ieri con il caldo comprensibile, il suo partita un pochino sottotono, ma positivo comunque sempre l'atteggiamento e la voglia di sacrificarsi. E poi anche Jack, che anche lui come Castieco ha giocato molto bene con il Lecce, ieri un pochino ha fatto un po' di fatica, però col caldo, ripetiamo, ci sta. Molto bene anche gli ingressi di Saleme Kers e Paquetà. Paquetà come ha detto Pioli deve cercare di perdere meno palloni, essere meno lezioso e deve essere un pochino più concreto e pulito nelle scelte di passaggio, ma complessivamente ha giocato una buona gara. E poi Rebic, che ha giocato una grandissima partita anche ieri, grande partita Lecce, un giocatore che ha cercato, come ha detto Pioli, molte volte la profondità, trovandola bene e essendo una spina nel fianco. Mi è piaciuta la definizione di Pioli. Rebic ha una spina nel fianco per le difese avversarie. E poi Leao che deve essere un pochino come Paquetà, un pochino più concreto, un pochino più, come ha detto Cianoglu anche a Dazon, di avere maggiore mentalità. È giovane, ci può stare, lo aspettiamo, però le qualità ci sono. Quindi Pioli ha dato molto al Milan e vorrei ricollegarmi con questa riflessione alle dichiarazioni di Paolo Condò, che qualche giorno fa ha detto Il Milan l'anno prossimo non ripartirà da zero, riparte da un blocco di giocatori importanti. Ha citato Donnarumma, ha citato Teo Hernandez, ha citato Romagnoli, Kier, Kessibe, Nasser, Cialanoglu, Rebic. Tanti giocatori interessanti, su cui poter continuare a costruire. Però per costruire dovrebbe esserci la continuità del progetto. Quindi io potrei essere anche favorevole al fatto che rimanga Pioli come allenatore. E Ragnic, visto la capacità di scovare talenti, possa contribuire a rinforzare il Milan con dei giovani di talento. Ma Pioli lo vedrei bene come allenatore. Quindi se Ragnic non dovesse decidere di allenare il Milan, ma si va alla ricerca di un attore italiano, dovremmo, dobbiamo tenere Stefano Pioli. Chi conosce dal gruppo è ben voluto dal gruppo perché è una persona seria, competente, professionale e soprattutto sta ottenendo grandi risultati. Quindi ricapitolando, se Ragnic decida di venire al Milan, ma non in chiave da allenatore, allora, personalmente, punterei a trattenere ancora per una prossima stagione Pioli e vedere, partendo all'inizio, come potrebbe essere il suo campionato. Perché si è sentito e molti colleghi riportano che Ragnic stia ancora decidendo e sta valutando se arrivasse e non volesse fare l'allenatore di puntare il suo allenatore italiano. Quindi, vista le scarse alternative sul ruolo, non penso che il Milan possa puntare allenatori che prendono un alto ingaggio, quindi come Allegri e altri, ma se volesse andare a prendere un allenatore come Spalletti, in questo momento, per dare continuità di prestazioni, per dare continuità di risultati e per dare continuità al gruppo e al suo lavoro, confermerei Pioli. Se Ragnic invece dovesse decidere di fare l'allenatore, allora, questa è un'altra decisione che spetta alla società. Quindi Ragnic è questo, se dovesse decidere l'allenatore, va bene, accettiamo il rischio, ok? Ma se dovesse decidere di fare l'allenatore sportivo e cercare un allenatore italiano, perché non confermare Pioli, visto i risultati che sta portando avanti? Il mirto al calciomercato, molto ottimismo, c'è grande ottimismo per il rinnovo di contratto di Gigi Donnarumma, Blindatite, Hernandez e Ben Nasser, il Milan punterà a rinforzarsi attraverso dei giovani. Soboslai è il primo nome sulle cose che deve essere Ragnic e poi tanto scout in giro per il mondo per cercare i nuovi talenti del domani. Ma Pioli l'ha detto, al Milan hanno fatto molto bene Kier e Ibrimic perché hanno alzato il livello di mentalità e di personalità. Quindi al Milan va benissimo i giovani, ma bisogna anche confermare i giocatori più esperti. Quindi un chiaro segnale alla società, Kier va riscattato. E vanno puntati i giocatori che hanno grande esperienza, grande personalità e una buona mentalità. E come sempre se vi è piaciuto questo video e pensate come noi, mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.